allora ragazzi qui dentro ci sono i vostri sei nomi ci sono tutti ora usciranno tutti ora uno a uno vediamo l'ordine della finale ok vediamo che è il fortunato che si esibirà per primo allora per prima si esibirà claudia vediamo chi si esibisce seconda rossella scusate non stai vittanetti scusate non riesco ad avere una mano Marisa Emanuele Samantha e questo dovrebbe essere Luciano eccolo qua ok ordine di esibizione finale la sorta ha deciso così in bocca a lui l'ho alla prossima and dic Grazie a tutti.